Dopo il GF VIP 7 Antonino Spinalbese è ritornato a casa e ad aspettarlo c'era un incontro meraviglioso, che ha commosso migliaia di utenti A pubblicare tutto è stato proprio l'ex concorrente del programma di Canale 5, che ha anche scritto due parole significative Una domanda rivolta ad una persona più che speciale, ovvero sua figlia Luna Marie E il gesto di quest'ultima nei confronti del papà è stato da brividi Inoltre, tanta gente si è complimentata con Belen Rodriguez per come avrebbe gestito la situazione Dunque, una volta terminata l'avventura al GF VIP 7 con la sua eliminazione Antonino Spinalbese ha subito pensato a sua figlia Luna Marie e non poteva essere altrimenti dopo circa 4 mesi vissuti rinchiuso nella casa più spiata d'Italia Forse nemmeno lui si sarebbe però aspettato una reazione del genere da parte della piccola Il video postato su Instagram è una meraviglia per gli occhi di tutti e immediatamente sono stati pubblicati tantissimi commenti In cui si sottolinea la purezza di quell'atteggiamento assunto dalla bimba GF VIP 7 Antonino Spinalbese e l'incontro con la figlia Luna Marie Tutti gli occhi sono stati puntati sul gesto dell'ex GF VIP 7 Antonino Spinalbese Che ha fatto commuovere tantissimi italiani per il suo comportamento avuto con la figlia Luna Marie In tanti hanno sottolineato un aspetto importante Infatti dopo aver notato cosa ha fatto la bambina quando ha incontrato il padre Si è giunti ad un'ipotesi decisamente molto probabile Lei avrebbe parlato costantemente della figura del genitore alla piccola Nonostante i due non siano più una coppia da tempo e abbiano avuto anche incomprensioni Nella didascalia di accompagnamento al video social Spinalbese ha scritto Mi perdoni? In riferimento alla figlia Dato che non l'ha vista per lungo tempo E la bimba lo ha perdonato e come? Infatti come si evince dalle immagini ha iniziato subito a correre verso il papà e lo ha abbracciato con affetto Sorridendo tantissimo Quindi, lo ha immediatamente riconosciuto e ha potuto godersi quel bellissimo momento con l'adorato papà Adesso potrà recuperare il tempo perso A causa dell'esperienza televisiva E i fan di Antonino Spinalbese gli hanno scritto Stupendi Tutta la vita insieme Brava anche Belen Meravigliosi Sei stato una scoperta Antonino Una persona perbene e intelligente Tiango Sei un papà fantastico Meriti tutte le gioie di questo mondo Nino Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti